Oggi in Italia ci sono quasi 3 milioni di persone che cercano lavoro, ci sono tantissimi giovani che sono costretti ad andare all'estero perché non trovano prospettive nel nostro paese. Fare ripartire l'economia, creare lavoro è la priorità delle priorità oggi per il nuovo governo, deve essere un punto di massimo impegno per chi oggi assume la responsabilità di guidare il paese. Noi crediamo molto nel rilancio degli investimenti, ci sono tanti soldi stanziati per gli investimenti pubblici, dobbiamo spenderli presto e bene, dobbiamo incentivare gli investimenti privati a partire da quelli per l'ambiente. Il tema del mezzogiorno è al centro delle politiche economiche del nuovo governo, c'è una clausola del 34% che è stata prevista dai governi precedenti, deve essere rispettata e attuata e estesa al settore pubblico allargato. Bisogna investire nei servizi pubblici. I rumors dicono che nel prossimo governo il senatore Misiani sarà nuovo sottosegretario. Il senatore Misiani è responsabile economico del Partito Democratico, è un compito impegnativo, farò quello che mi sarà chiesto di fare ma svolgo un ruolo che mi appassiona e cercherò di dare il miglior contributo possibile. Vole PD al governo, cosa chiedete in generale per la nostra regione? Ma innanzitutto una presenza costante di tutti i protagonisti del governo in Abruzzo. Li chiameremo, li inviteremo a da oggi, sono contento anche che sia con noi Antonio Misiani, a cui auguro naturalmente di far parte di questa compagine di governo, al Ministero dell'Economia perché se lo merita, perché è un bravissimo senatore e naturalmente la sua presenza qui oggi, nelle ore in cui si discute anche del suo destino, per noi è molto significativa. Chiederemo questa amicizia, questo ascolto innanzitutto e poi gli impegni che riguardano le tante partite aperte della regione Abruzzo. Vogliamo condividere con loro un nostro modello di sviluppo per questa regione, che riguarda innanzitutto le crisi industriali ma anche le prospettive di crescita, per esempio negli investimenti infrastrutturali, nel credere alle potenzialità dell'Abruzzo, le sue caratteristiche. Oggi è una occasione importante sia per ragionare di questo, dell'Abruzzo, ma anche per ragionare di come cambia il mondo del lavoro.